il sole e la luna le stelle erano l'orologio di un passato né purtroppo lontano l'accelerazione delle scoperte scientifiche ed il conseguente più rapido sviluppo delle invenzioni moderne fa sì che oggi siamo al volante di un'automobile ibrida plug-in come Peugeot 3008 Hybrid 4 un SUV che oltre ad essere un efficace mezzo per la mobilità anche molto performante con i suoi 300 cavalli grazie alle dotazioni di cui dispone è considerabile come l'estensione su quattro ruote di ogni nostra abitudine un'estensione il SUV oggi più che mai collegato a strumenti importanti come lo smartphone fulcro delle professioni e delle piattaforme per il tempo libero la prosecuzione di un'attività iniziata davanti al monitor in studio una volta saliti a bordo di Peugeot 3008 Hybrid 4 è un fatto ieri impensabile ed oggi normale anzi fondamentale quale che sia l'attività professionale o una scelta per il fine settimana il posto di guida caratterizzato dal rivoluzionario ed esclusivo Peugeot iCockpit porta l'esperienza dinamica su un altro piano e riscrive l'intera ergonomia di bordo la strumentazione digitale leggibile più in linea con la visione della strada comunica tutti i dati di viaggio inclusa la navigazione o il funzionamento dei motori ben 3 di cui è dotata l'auto ma c'è anche una cosa che nessuno dei suoi concorrenti può offrire la schermata night vision il sistema di visione notturna mutuato dal mondo militare che permette di vedere in anticipo ciò che l'occhio umano non percepisce ed alzare la qualità e la sicurezza di guida un'esperienza sorprendente il volante multifunzione estremamente compatto ed appiattito sopra e sotto è poi qualcosa di davvero unico insieme al display a centro plancia gestito sia dal tocco di un dito che dai tasti a pianoforte posti immediatamente sotto di esso uno strumento che permette peraltro la replica dello schermo del proprio smartphone un salto quantico anche rispetto ad un'auto di soli cinque anni fa un SUV il peugeot 3008 è stato il primo della storia eletto car of the year ora anche con motorizzazione ibrida ricaricabile in grado di offrire circa 60 chilometri di autonomia puramente elettrica grazie ad una batteria di 13,2 kilowatt ora batteria che si può ricaricare nel box in 7 ore collegandola alla normale presa di corrente in meno di due ore con la wall box e il caricatore di bordo per 7 kilowatt molto molto semplicemente 300 cavalli con prestazioni impensabili per un SUV fino a pochi anni fa meno di 6 secondi per scattare da 0 a 100 orari grazie alla trazione integrale al motore puretec turbo e due motori elettrici appagante nella guida facile da gestire nel quotidiano è peugeot 3008 hybrid for un device di mobilità proprio come uno smartphone di gran livello